E con grande piacere che ospitiamo oggi Gabriele Salvatores, benvenuto! Buonasera, buonasera. Siamo molto contenti ovviamente di averti ospiti, per noi è un onore di annunciare anche questo film che andrà in onda stasera su questa rete che si intitola Tutto il mio folle amore e che peraltro racconta una storia che abbiamo anche raccontato noi in questo studio, è la storia di un padre e di un figlio, è un on the road e forse insieme a te vedrei una clip da quello che vedremo stasera, così poi ne parliamo. E' una questione di equilibrio, capito? Io devo sentire il tuo e tu il mio. Tu e il mio? Sì, che ho detto io? Detti il tuo equilibrio? Sì, ma hai capito? Poco! Bravo! Madonna mia, Vincent! Erano anni che non mi divertivo così. Ah, mio! Bello vento! Vento bello! Bello! C'è Claudio Santamaria, c'è Valeria Golino e poi c'è questa nota di regia che ho letto appunto nella cartella stampa visto da vicino nessuno è normale e si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è diverso da noi a patto di non avere paura di questa diversità. Io forse aggiungerei pure che chi è diverso da noi, siccome ci arricchisce, è anche più stimolante amarlo o no? Molto giusto, molto giusto. Se continuiamo a specchiarci che sia uno specchio, che sia un social che ci ridice quello che noi vogliamo sentirci dire rimaniamo uguali, mentre invece il confronto con qualcuno che è diverso da noi può magari aprire delle finestre, aprire delle strade nuove. Ecco, questo è il racconto di un viaggio di un padre e di un figlio. Il figlio ha, voi lo definite, insomma, chiuso nel suo mondo. Insomma, come è in realtà la storia ispirata al racconto, al romanzo appunto di Antonello padre e Antonello figlio furono i nostri aspetti, li facciamo rivedere perché così fecero un'intervista molto molto bella da noi l'anno scorso. Vediamo. E adesso vi racconto la storia di un papà e di un figlio. Si chiamano Franco e Andrea. Il figlio è autistico, la loro storia ha commosso, ha emozionato l'Italia ma non solo e questo è il loro viaggio. E noi siamo praticamente sempre insieme, una volta all'anno ci concediamo un giro, uno di questi è diventato un libro, è diventato famoso, ci ha permesso... Un film, anche un film di Salvatores... Un documentario poi, che se ti abbraccio non aver paura. E ci ha permesso questa cosa qua, noi l'abbiamo accolta a braccia aperte, siamo qui per questo perché oltre che a pensare ad Andrea, con i bambini delle fate, la nostra associazione, stiamo dando tante possibilità a ragazzi come lui in tutta Italia. Perché questa storia ti ha colpito così tanto, Gabriele? Ma ci sono tanti motivi. Il tema del viaggio è una cosa che mi sta a cuore da tanto tempo. in viaggio si perdono le nostre difese, ci esce un po' dalla nostra comfort zone, siamo più esposti e quindi anche più ricettivi. Il rapporto tra padre e figli, anche questo è un'altra cosa che ho ripreso anche in altri film, tipo io non ho paura, come Dio comanda. Perché oggi forse una delle figure che ci manca è quella dei padri. Parlo da maschio, forse i nostri modelli erano migliori, mio padre era un vero padre. E non parlo solo di padri di famiglia, forse proprio qualcuno che si prenda la responsabilità in politica, nella vita normale, di dire questo è giusto e questo è sbagliato, anche correndo il rischio poi di essere contestato. Ma insomma, il padre è la legge, è quello che dice cosa bisogna fare. Ed è importante avere questo starring partner, chiamiamolo, questo sfidante con cui crescere. Se invece il padre diventa semplicemente un amico, beh, non svolge secondo me la sua funzione. Mi piaceva questa cosa che Antonello ha preso insieme, ha messo insieme questi due ruoli, quello dell'amico, del compagno, ma anche quello del padre, che si prende la responsabilità di portare in giro un figlio che ha sicuramente delle difficoltà. E poi c'è questo tema dell'autismo che mi affascina molto. Sapete che sono autistici alcuni dei personaggi più, non so, Einstein lo si sa, ma grandi pianisti, grandi musicisti. L'autismo non vuol dire essere inferiori. C'è uno spettro molto ampio, ovviamente, poi appunto ci sono delle genialità in alcuni tipi di percezioni del mondo. Gabriele, tu avresti voluto fare un viaggio con tuo figlio, perché l'On the Road è un grande tema della cinematografia, anche della tua cinematografia, come ci hai ricordato. Tu e tuo padre un viaggio, lo avete fatto mai insieme? Guarda, mio padre era un avvocato napoletano, crociano, quindi aperto, però insomma legato a delle tradizioni abbastanza solide. Io avevo, quando avevo l'età del ragazzo, io non ho paura, avevo i capelli, anche se non sembra, avevo i capelli lunghi fino alle spalle, ma per farvi capire com'era mio padre, lui diceva, vabbè i capelli sono tuoi, fai quello che vuoi, basta che cammini sull'altro marciapiede quando usciamo insieme. Si vergognava? Si vergognava di te? Beh, per lui non si vergognava, ma insomma mi considerava un po' strano, ecco, e quando gli ho detto non voglio fare l'avvocato, perché avevo cominciato a studiare l'esperienza, ma voglio fare teatro, lui si è chiuso in camera per un giorno, però alla fine mi ha detto una cosa importante, per me la vita è tua, se vuoi fare anche l'idraulico, fai l'idraulico, ma cerca di essere il migliore idraulico del quartiere, e questo mi ha aiutato, è stato un bravo padre, mio padre. Peraltro una frase così è una frase molto sfidante per un figlio, perché tu non ti potevi permettere di fallire, o no? Hai ragione, infatti una delle cose che mi ha fatto più piacere dell'Oscar di Mediterraneo è che ho subito chiamato loro, che erano svegli, e dicevi, vedi papà, un po' ce l'ho fatta, no? E lui cosa ti ha detto? Un po', solo un po', no? No, lui era veramente contento. Guarda, mio padre era un avvocato abbastanza noto a Milano, quindi Salvatores era lui, ma quando ha cominciato a dire buongiorno avvocato, è nato Salvatores, e la gente gli diceva, ma è parente del regista, e lì un po' di problemi forse li ha avuti, e questo succede a tutti. Senti, ma poi in realtà tu sei nato a Napoli, il tuo papà era napoletano appunto è nato a Napoli, sei arrivato a sei anni a Milano, com'è andata l'interazione di un bambino, abbiamo parlato molto di Napoli in inizio puntata, un bambino napoletano che poi arriva a Milano, com'è andata? È stato facile, è stato difficile? No, è stato molto difficile, anche perché io sono arrivato a Milano nel 1956, cioè due anni prima di Rocco e di tutti i suoi fratelli, quindi c'erano ancora i cartelli con scritto non si affitta ai meridionali, e infatti io tifavo Napoli, la squadra, no ovviamente, ma fuori di mazzate a scuola mi hanno costretto a scegliere una delle due squadre milanesi, ho scelto quello con l'azzurro del Napoli nella maglietta e sono diventato interista. E questa cosa che l'essere, insomma, l'aver vissuto diciamo uno shock, anche se tu comunque avendo un padre avvocato eri diciamo un emigrato di lusso, tra virgolette, per l'epoca, no? Sì. Comunque, insomma... Sì, anche se devo dire, non è che ci fossero proprio... Mio padre cominciava quando è arrivato a Milano, quindi non c'era proprio grande agio, però... Ok, però no, cioè volevo dire che insomma era una situazione comunque... già migliore rispetto a chi partiva, immagino, con la classica valigia di cartone. Ah, certo, certo. Ecco, ma invece questa infanzia, diciamo così, un po' nella quale ti sei dovuto far valere in qualche modo, come ha influito poi anche sul tuo percorso artistico, sulla tua crescita umana? E' stato importante perché ho capito che le cose andavano conquistate, insomma, se non ci lavoravi, se non ci stavi sul pezzo, come si diceva una volta, beh, non ci arrivi. Quindi le difficoltà ti aiutano a diventare un pochino più forte e più determinato anche. Quindi non... Sai, all'inizio del teatro, scusami, noi dormivamo nei sacchi a pelo con i cani per riscaldarci dentro nel sacco a pelo sul palcoscenico, perché non avevamo i soldi per gli alberghi, quindi tutto questo serve. Interessante, non hai mai avuto paura di non farcela? Sì, sì, ho avuto paura di non farcela, mi ricordo in particolare proprio una scena mentre facevamo teatro, non avevamo più una lira, si era rotto il camion che doveva trasportare le cose, non avevamo i soldi per ripagarlo e ho detto, vabbè, ok, ritorno a casa. Invece per fortuna abbiamo tenuto duro e siamo andati avanti. Poi ovviamente, insomma, raccontiamo spesso gli inizi delle carriere, no? Perché pensiamo che siano motivanti per chi ci segue a casa, sia per chi vuole diventare un regista, un attore, ma anche per chi deve affrontare le difficoltà della vita che non sono mai semplici. Dimmi, la domanda è banale, te l'avranno fatta due milioni di volte, però ti prego, te la devo rifare perché intervistare un Oscar non capita raramente nella vita. Quindi, l'emozione di quando hai sentito il tuo nome, il nome del tuo film di Mediterraneo su quel palco di Los Angeles? È curioso perché ti devo dire, Silvestre Stallone, che ha aperto la lettera con il verdetto, non ha letto subito il nome del film o delle cose, ha detto, e io non conosco bene l'inglese, allora lo conoscevo proprio pochissimo, ha detto, and the winner is Hillary, e io ho capito Hillary e ho detto, oh porca miseria, c'è un sesto film che non sapevo, capito? Poi quando è partito la musica di Mediterraneo e il nome, eccetera, sì, lì ero talmente emozionato che non mi sono neanche spaventato di andare su questo palco e ho detto una cosa che mi è venuta spontanea, allora c'era la prima guerra in Iraq e ho detto grazie, ringrazio tutti e poi vi prego, fate come i soldati di Mediterraneo, fermate la guerra che la vita è meglio. Lì è partita una musica, sono entrate due signorine e mi hanno portato via perché non si possono fare dichiarazioni politiche. Ma tu non lo sapevi e quindi l'hai fatta, meglio così. Non si potevano fare. Esatto, ma quindi meglio così perché poi è andata e il messaggio lo abbiamo lanciato. Curiosità, dove lo conservi l'Oscar? Non l'ho voluto tenere a casa per tanto tempo, proprio per non entrare in competizione con questo signore senza peli e tutto dorato. Adesso che ho fatto un po' pace con questa cosa, adesso l'ho rimesso a casa. È un ottimo fermalibri, perfetto per tenere i libri di cinema. Bene, ecco, c'è dalla H di Hitchcock, non so, alla T di Truffaut, ci sta l'Oscar da una volta all'altra. Esattamente. Gabriele, è stato davvero un piacere e un onore averti ospite. Torna quando vuoi a raccontarci i tuoi progetti. Peraltro vi ricordo anche due ultimi film fatti sempre da Salvatore, Fuori dalla Primavera, dedicato al lockdown. Comedians, che è il film successivo. Insomma, andate al cinema, più che potete stasera guardate tutto il mio folle amore su questa rete. E insomma, ricominciamo a riappropriarci anche delle sale, perché andare al cinema, lo ripeto sempre a costo di essere, noiosa. È un'emozione enorme, è un rito collettivo che si compie tutti insieme in silenzio, per cui l'emozione, l'emozione che costa 8 euro, 7 euro e 50, non ce la dimentichiamo. Giusto? Giustissimo, giustissimo, grazie di averlo detto.